ben ritrovati sono nuovamente qui colgo l'occasione per augurare a tutti un buon 2017 spero si veda che ho preso veramente un filo di colore infatti il distacco dal viso al collo c'è ma ho passato quattro giorni al mare con un tempo meraviglioso ovviamente la mattina in cui ho deciso di partire si è scatenato giove pluvio lo so quando io parto il cielo piange questa è la cazzata che dico sempre tutte le volte che me ne vado ma stranamente tutte le volte che parto da Riccione piove e quindi si vede che ci tengono molto a che io rimanga lì chiusa la parentesi voglio tornare a parlarvi di un l'indel colgo l'occasione per rispondere anche in video pur avendolo già fatto nel commento relativo voglio rispondere a gloria viola che mi ha domandato se era il caso di iniziare a leggere romanzi della lindel dal primo cioè la trappola sì perché la storia di come nasce la coppia investigativa kato isaxen e maria andale ha un suo senso se la si comincia a leggere dall'inizio ossia dal primo romanzo che li vede protagonisti ossia la trappola tra l'altro sempre gloria viola mi ha fatto sapere che esiste anche una versione editata da non so bene quale casa editrice che ha pubblicato il primo romanzo la trappola con il titolo più esteso la trappola di miele e mi chiedeva se fossero due romanzi differenti no è sempre lo stesso romanzo la trappola o la trappola di miele di uni lindel sono la stessa identica cosa come vi avevo già accennato nel video appunto in cui vi proponevo questa nuova autrice newton compton ha radunato in un unico volume i primi tre casi che vedono come protagonisti la coppia isaxen dale e sono appunto la trappola all'ultima a casa sinistra e dolce e come la morte ebbene io ho letto anche gli altri due romanzi e sono stati veramente una rivelazione ossia questa autrice merita veramente di essere letta e seguita perché non solo la dinamica che lega la coppia kato marian è molto bella perché ci sono questi due caratteri così differenti ma al tempo stesso così complementari l'uno con l'altro che fanno sì che si veda come le diverse modalità di porsi davanti a un'indagine portino sì a un risultato ma per vie diametralmente opposte ma proprio perché poi questo continuo incontro scontro farà sì che questo rapporto salga cioè agli occhi di kato la figura di marian comincerà col tempo a prendere sempre più importanza e verrà veramente considerata da kato una vera professionista con tutti i suoi difetti caratteriali ed emotivi ma comunque una persona che nel suo lavoro è veramente notevole nei due casi che seguono appunto la trappola avremo altre situazioni che io non vi voglio raccontare cioè il mio intento adesso non è raccontarvi la trama anche perché poi ho letto un ulteriore romanzo che è il caso della donna sepolta nel bosco e adesso ho iniziato l'altro romanzo che si intitola la terza vittima se poi penso che non ce ne siano altre comunque mi sto leggendo l'opera omnia della lindel perché mi ha preso veramente il bello di questi romanzi è questo dunque già nello specifico come vi avevo già detto in altri video è la narrativa poliziesco gialla ambientata nei paesi scandinavi è molto lontana da quello che siamo solito leggere non hanno niente a che vedere con i gialli all'inglese con i polizieschi all'americana con anche i nostri polizieschi all'italiana è un mondo a sé stante vuoi perché proprio la natura concorre a far sì che i tempi i ritmi delle indagini siano differenti voi pensate di vivere in paesi dove la temperatura è sempre abbastanza rigida i mesi di bella stagione sono pochi brevi e poi si ha questo perenne inverno che però non è un inverno perennemente avvolto nel buio perché c'è anche il sole d'inverno appunto cioè questo è questa eterna luce crepuscolare che fa sì che quasi i bioritmi vengano un po stravolti e così come viene stravolto il bioritmo questo si riflette anche in un certo qual modo sulla psiche delle persone le persone hanno una vulnerabilità maggiore ed è anche vero che proprio la il fatto che la densità di popolazione in questi paesi sia molto scarsa cioè ci siano grandi grandissimi spazi vuoti dove ci sia molta solitudine dove il nucleo sociale è a volte ridotto a poche decine di persone fa sì che proprio cambi completamente quella che è la struttura sociale della vita dai romanzi della lindel viene fuori questo aspetto sia malgrado romanzi siano ambientati ad oslo ad oslo e nelle borghili mitrofi è anche vero che abbiamo persone che portano in sé questo proprio carattere nordico fatto di solitudine di lunghi silenzi di notti che si protraggono per per mesi di queste cose strane cioè strane così diverse dalla nostra concezione e delle stagioni e del tempo del dei rapporti sociali il messaggio che viene è quello di un carattere che rispecchia un po questa situazione della natura cioè questo buio che rimane dentro le persone questo buio che fa sì che si possa credere che una cosa un male un delitto un segreto accaduto decenni prima possa rimanere così per sempre celato e invece non è così perché succede poi l'evento scatenante che riporta d'attualità una cosa che i protagonisti magari credevano persa nel tempo passato questo è il bello dei romanzi di Onellindel fare vivere proprio questa quest'anima nordica fatta di ripeto silenzi di parole brevi di segreti chiusi tra le quattro mura di casa insomma fa vedere come nella realtà quello che nell'immaginario nostro è il paese nordico cioè avvolto dalle nevi queste belle casette di legno tutto sembra tutto il paese di babbo natale queste cose in realtà dietro questo aspetto da cartolina c'è sempre comunque come avevo già detto la volta scorsa il male il male che non guarda latitudine longitudine non guarda religione razza censo il male quando c'è colpisce senza guardare in faccia niente ovviamente Ori Lindel ve la torno a consigliare perché ha uno stile narrativo molto bello a me piace è stata brava anche a creare non solo i due personaggi principali ossia Cato Isaacson e Mare Andale ma anche tutti i personaggi che gravitano loro attorno della stazione di polizia i vari collaboratori perché ognuno ha la sua storia poi personale perché al di là della professionalità sono comunque persone con una vita con delle famiglie con delle problematiche è bello è bello questo mondo norvegese che une Lindel ci mostra con sempre molta capacità narrativa in tutti i suoi romanzi quindi ribadisco per chi si volesse accostare a questa autrice consiglio vivamente per comprendere bene l'evoluzione di quella che è la vicenda che lega i due protagonisti di iniziare senz'altro con la trappola fate prima a comprare il libro di Newton Compton che ha raccolto i primi tre romanzi così che avete proprio la partenza della storia con le diciamo puntate a venire nel senso che i casi polizieschi sono casi a sé stanti una volta chiuso e risolto uno non ha ripercussioni su quello dopo le ripercussioni si hanno per quanto concerne la storia che lega i due protagonisti che però è molto bella da seguire perché è una storia umana veramente come due persone che all'inizio sembra non dovranno mai andare d'accordo anzi nel romanzo della trappola Cathy Saxon farà di tutto affinché Marianne venga estromessa cacciata dalla squadra venga rimandata nell'ufficio da cui arrivava prima c'è proprio quasi una rabbia nei confronti di questa ragazza e poi invece questa rabbia, questa insofferenza, questo fastidio lentamente e inesorabilmente cambieranno cambieranno perché alla lunga il valore di una persona se c'è salta fuori e gli altri sono costretti a riconoscerlo mentre sto facendo questo video sto notando che le mie sopracciglia sono diverse sì che sono andata a farle dall'estetista ma ce n'ho una un po' più curvata e una più dritta vabbè, è normale che gli occhiali che coprono basta, con questo vi saluto, ribadisco il concetto Uni Lindel, mi pare che sia la prima volta che io faccia due video consecutivi sullo stesso autore sì, ho recensito parecchi romanzi che so io di Andrea Vitale che amo tantissimo del quale ho un paio di libri da leggere ancora amo lui, amo tanti altri scrittori ma sono veramente rimasta entusiasta di questa autrice Uni Lindel è una scoperta di quelle molto molto belle, mi ha fatto felice incontrarla attraverso i suoi personaggi quindi sì, ve la consiglio ancora di cuore con questo vi saluto un bacione immenso rinnovo a tutti voi i miei auguri per un 2017 strabello pieno di cose belle, buone, piacevoli d'amore per inciso, personalmente la sottoscritta anche quest'anno è riuscita a vincere il primo premio e ho rivinto un weekend lì in albergo e il secondo anno ho di seguito che succede non è che ho particolarmente come si dice nell'alta società culo è che è un lavoro di squadra tra me e mio marito mio marito sta alla roulette io sto al tavolo del Texas Hold'em accumuliamo fish alla fine si mettono insieme e stranamente siamo quelli che fanno più punti di tutti saremo bravi no? basta ribacioni e un arrivederci a prestissimo ciao ciao ciao